La signora Palmina che ci ha chiamato qui proprio in diretta, che bellezza! E' qui Palmina? Sì, buongiorno! Eccola, benvenuta! Complimenti a tutti! Buongiorno signora! Benvenuta in QVC! Buongiorno! Ci dica pure! Io ho comprato la francesina, me la sono innamorata tantissimo! Ah, bravissima! Ecco, devo averla, devo averla, poi la grigia l'avevate esaurita, dovevo prendere il nero! Ebbè, ma il nero lo userai tantissimo anche lui, eh! Sì, sì, preferisco la scarpa che non è innamorata. Anche adesso vorrei andare a letto con la scarpa e non mettermi le ciabatte. Hai capito? Beh, questa è la cosa più bella, secondo me, che potevi dire, Mattia, eh! Sono veramente estasiato! Davvero! Potete fare tutto il giorno, perché io ho un altro paio di stivali che ho comprato fuori in negozio, che costavano l'ira di Dio. Ma dopo un'oretta devo togliere perché mi fanno male i piedi. Invece con la karma, volo! La ringrazio tantissimo, signora Palmina! È stata bravissima a chiamarci, gentile! Insomma, che non è stata timida. Da quanto tempo è che ci segue, Palmina? Eh, ormai è da una sera dell'anno scorso, un anno. Ah, allora ormai è diventata di famiglia! Fezionata! Benissimo, benissimo! Bene, mi fa molto piacere, allora le auguriamo buone feste, sicuramente! Grazie a voi! Buon Natale! Con le karma ai piedi! Grazie a voi! E buon Natale nuovo, sì, e proprio con le karma ai piedi! Un bacio! Grazie, grazie! Grazie a voi, arrivederci! Arrivederci! Grazie! Grazie a voi!